E non dico a Berlino, addirittura in provincia, a Grefelec. Terza elementare. Ascoltate questo problema, me lo ricordo perché mi ha colpito. Problema. Un pazzo costa allo Stato quattro marchi al giorno. Uno storpio, quattro marchi e mezzo. Un epilettico, tre marchi e cinquanta. Visto che la quota media è quattro marchi al giorno e i ricoverati sono trecentomila, quanto si risparmierebbe se questi individui venissero eliminati, soppressi? Dio mio, non è possibile. La stessa reazione che ho avuto io, Dora. Dio mio, non è possibile. Non è possibile che un bambino di sette anni risolva un problema di questo genere? Il calcolo è complesso. Le proporzioni, le percentuali, ci vuole un minimo di informazione algebrica, no? Un problema da scuola superiore per noi. Ma no, basta una moltiplicazione. Quanto ha detto che sono questi storpi? Trecentomila? Sì. Trecentomila per quattro. Se li ammazziamo tutti risparmiamo un milione e duecentomila marchi al giorno. Facile, no? Esatto, bravo. Ma tu sei grande, grosso. In Germania lo propongono ai bambini di sette anni. Veramente un'altra razza.